Conti correnti, appartamenti, orologi di marca e auto di lusso. Su questi beni si è concentrata l'attività di aggressioni ai patrimoni leciti portata a termine negli ultimi giorni dalla Guardia di Finanza di Pescara nell'operazione Superclean. Ammonta circa 3 milioni e mezzo di euro il valore del tesoretto accumulato illegalmente dagli amministratori infedeli di una società leader nel settore della produzione e vendita di macchinari per la pulizia di superfici. In merito parla il comandante provinciale di Pescara, il colonnello Antonio Caputo. L'operazione Superclean è un'importante attività investigativa portata a termine proprio in questi giorni dai nostri finanzieri, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica di Pescara. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria guidati dal colonnello Lauro hanno raccolto la segnalazione dei soci di minoranza di un'importante società leader del mercato della produzione e della vendita di macchinari per la pulizia di superficie. Segnalazione che lasciava presumere uno svuotamento, un impoverimento di questa società per finalità personali e le indagini che abbiamo svolto hanno dimostrato tutto questo e ci hanno permesso di disarticolare questo soddelizio criminale che attraverso la falsa fatturazione, il più classico degli strumenti fraudolenti, ha permesso di depauperare questa società per arricchire indebitamente i responsabili di questi comportamenti che sono stati denunciati. Le indagini svolte dai nostri finanzieri hanno confermato le ipotesi investigative. Attraverso le indagini finanziarie, attraverso l'analisi dei conti correnti delle società e delle persone coinvolte abbiamo scoperto la commissione di reati fiscali, la commissione di reati societari e anche di riciclaggio. Abbiamo tra l'altro ricostruito il tesoretto illecito accumulato dai responsabili e abbiamo proceduto su disposizione del GIP del Tribunale di Pescara ad un maxisequestro. Abbiamo sottratto ai responsabili ben 3 milioni e mezzo di patrimonio illecitamente accumulato. Si tratta di appartamenti, si tratta di conti correnti, si tratta di oggetti preziosi come orlogi di marca e autovetture di lusso, tutto ciò che veniva utilizzato per condurre da parte dei responsabili una vita da nababbi. E questo è un esempio importante di come la Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria si pone a fianco degli imprenditori che rispettano le regole, a salvaguardia del corretto funzionamento del mercato e del corretto funzionamento del sistema economico locale, a tutela della parte sana del Paese.